A tutti ben ritrovati per le ultime notizie dalla Diocesi di Vicenza. Nel primo anno dalla canonizzazione di San Giovanni Antonio Farina un DVD e un libro per tenere viva la memoria di questo santo dopo i tanti festeggiamenti. Quali sono quindi queste iniziative perché venga ricordato questo santo? Questo santo dell'Ottocento vive oggi attraverso l'opera delle sue suore. Per questo abbiamo realizzato attraverso il regista Paolo D'Amosso, regista ben conosciuto per essere un biografo di santi anche trasmesso dalla RAI, abbiamo realizzato un DVD di otto videoclip in cinque lingue, italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, pensando anche i sordi, quindi sottotitolato in italiano, che rappresenta con queste clip singole il mondo di Farina e il mondo dell'educazione che lui ha lasciato in eredità. Il mondo dell'educazione verso i giovani, l'assistenza verso i malati anziani, i laici, la collaborazione con i sacerdoti, il mondo dei poveri, il mondo delle missioni. Questo può essere usato per iniziative varie in parrocchia, con gli educatori, con le persone più varie. E poi c'è anche un libro. Un libro a cura di Romina Gobbo che ha avuto il pregio di creare un filo logico molto bello in qualcosa che avevamo raccolto che è avvenuto durante quest'anno. Giovanni Antonio Farina, talmente uomo da essere santo, questo il titolo del libro, che cosa ci propone? Mamma mia. Allora, guarda, tu sei partita dal titolo che per me è una cosa veramente bella. Vorrei dire che la frase mia non lo è, è di una delle suore che hanno dedicato una poesia al Farina. È bella perché riassume il contenuto. Allora, non il contenuto tanto del libro, ma assume il contenuto di quello che era questa figura. Nel senso che uomo è santo. Perché uomo? Perché di fatto lui riceve nella sua vita una serie di accuse di vario genere dal punto di vista politico, ideologico, eccetera. Questa cosa ci può capitare pure a noi, no? Cioè, accuse. Allora lui che fa? Lui si difende e sarebbe quello che noi facciamo sempre, però in certi momenti lui preferisce il silenzio. Però la santità. La santità perché? Perché quando noi guardiamo al santo, di solito pensiamo a lui come un eroe, qualcosa che noi non potremmo raggiungere mai. In realtà dobbiamo guardare ad un modello. E questo libro ci aiuta a ripercorrere questa figura? Certo. Adesso parliamo proprio del contenuto. Allora, nasce da un progetto delle suore Dorotè che volevano riprendere tutto quello che era stato pubblicato ad un anno dalla canonizzazione, ma anche qualcosina prima, appunto riguardo a lui. Sia nella stampa, sia per quanto riguarda i devoti. I devoti chiaramente hanno mandato parecchi bigliettini adesso all'urna che sta qui all'Istituto Farina, ma poi hanno scritto molto coloro che sono andati alla canonizzazione, quindi pensieri, riflessioni, poesia, appunto, eccetera. Quindi parte proprio come un contenitore. In realtà non ci piaceva che rimanesse soltanto questa cosa perché rimaneva fermo nel tempo. Volevamo invece che fosse più innovativo. Allora, ci sono alcune interviste, cinque, ai discendenti che sono ancora in vita, alcuni di Vicenza, alcuni di Verona, persone peraltro molto squisite e che, come dire, l'incontro col Farina a vari livelli li ha cambiati, ognuno partendo dalla propria esperienza. E poi la cosa molto bella, quindi che piacerà anche molto ai giovani, è che ci sono gli inni e negli inni c'è il QR code, per cui in realtà tu ti puoi collegare con il tuo telefonino e quindi è assolutamente innovativo. Un appuntamento importante per i giovani, martedì 17 novembre alle 20.30 nella Chiesa dei Santi Felice e Fortunato. Ci sarà una veglia di preghiera che è collegata anche alla giornata mondiale della gioventù, è così? Sì, il 17 novembre è questo appuntamento che ci aspetta ed è nato dall'occasione del pellegrinaggio della croce di San Damiano e della Madonna di Loreto che sta girando in tutte le diocesi d'Italia. Questa proposta del Servizio Nazionale della Pastorale Giovanile è in preparazione alla giornata mondiale della gioventù perché questi due segni della fede cristiana in Italia saranno poi i doni che faremo a Cracovia in luglio 2016 e quindi sarà l'occasione per pregare con questi segni, con queste immagini e quasi caricare questi segni della nostra preghiera e andrà anche in alcuni luoghi particolari, in alcuni luoghi di sofferenza, andremo in carcere, sempre con questi segni nei giorni seguenti. La veglia con il Vescovo sarà però martedì 17 alle 20.30 a San Felice Fortunato. Ed è diciamo il primo appuntamento per i giovani che sono interessati poi alla giornata mondiale della gioventù e anche uno degli appuntamenti proposti dalla Pastorale Giovanile sempre? Sì, perché è il primo incontro di Incroci che è un'attività, una serie di veglie che ogni anno noi proponiamo insieme alla Pastorale Vocazionale. L'inizio quest'anno coincide con l'inizio ufficiale del percorso che ci porta a Cracovia con la giornata mondiale della gioventù. Per questo sono particolarmente invitati i giovani che sono interessati alla partecipazione della giornata mondiale in Polonia. Possiamo ricordare qualche altro appuntamento per loro? Sì, con i giovani ci sono appuntamenti molto interessanti in questo prossimo periodo. Ci sarà il 21 novembre una festa giovanissimi che coinvolge non solo i giovani di azione cattolica ma tanti altri giovani nel palazzetto di Bassano per una festa sull'amicizia con grandi ospiti. E poi invece il 13 di dicembre, una domenica alle 17.30 ci sarà al teatro comunale di Vicenza un musical, L'atteso. E anche questo è un appuntamento in preparazione di Cracovia ma aperto a tutti i giovani che vogliono vivere un momento forte. La parrocchia di Marola organizza nuovi eventi per il decennale di Mamma Rosa. Sì, sono già passati dieci anni da quando Papa Benedetto ha dichiarato la nostra Eurosia Fabris beata. Certamente questo è un motivo di gioia per non solo noi della comunità di Marola e della Diocese Vicentina ma anche per il mondo intero. Praticamente ci sono degli eventi che cercano di evidenziare l'attualità di questa donna. Abbiamo già vissuto ieri sera un momento significativo quando in questa chiesa i cori delle tre parrocchie di Marola, Lerino e Torri, sette, hanno insieme proposto dei canti con delle preghiere in cui abbiamo cercato di onorare questa donna, questa santa, questa anzi prossima santa speriamo. Mentre stasera, sabato, avremo un momento di preghiera, adorazione eucaristica, pregando Dio per le nostre famiglie. Domani ci sarà il momento forte quando con la presenza del cardinale Velasio De Paulis. Ecco, onoreremo questa donna grazie anche alla presenza di questo uomo di Dio che naturalmente viene qui a nome anche del Santo Padre Francesco. E allora volevamo sentire qui anche qualcuno che conosce bene Mamma Rosa. Chi è per lei Mamma Rosa? Mamma Rosa per me è stata una mamma molto importante. È una mamma che ha dato molti esempi e molte persone vengono qui a pregare nel suo altare. Molte mamme? Molte mamme, socialmente sì. Ascoltiamo ora l'editoriale con il direttore della Voce dei Berici. Fin dall'inizio del suo pontificato Papa Francesco ci ha indicato le periferie come una delle categorie fondamentali per tradurre oggi il messaggio del Vangelo. Ce lo continuo a ripetere e credo che dal punto di vista intellettuale sia anche abbastanza semplice comprenderlo. Ben altra è la sfida di tradurlo nella vita quotidiana a livello personale e comunitario. E' da questa consapevolezza che deriva la scelta quasi ossessiva di questo Papa di riproporci continuamente la centralità delle periferie per vivere il messaggio evangelico. Un nuovo segnale molto forte è quello di decidere di aprire il nuovo giubileo della misericordia non da San Pietro come sempre è avvenuto nella storia ma dal Centrafrica, una realtà martoriata dalla guerra alle periferie assolutamente della storia e di quelli che sono gli interessi dei media internazionali. Questo è un segnale molto forte che ci richiama ciascuno di noi a livello personale e comunitario a vivere anche il prossimo giubileo guardandolo e vivendolo dalle periferie. E ora vediamo gli appuntamenti in agenda a partire dall'attività del Vescovo. Domenica 8 novembre nel pomeriggio parte per Firenze dove fino a venerdì 13 prenderà parte il convegno ecclesiale della Chiesa italiana. Sabato 14 novembre alle 10.30 nel Tempio di San Lorenzo in città presiede la Santa Messa per le vittime civili della guerra. Alle 16 in cattedrale presiede la Santa Messa e amministra le cresime per l'unità pastorale delle valli beriche. Le proposte di Villa San Carlo a Costa Bissara martedì 10 novembre alle 10 l'incontro per i preti classe 1970. Mercoledì 11 novembre alle 9 il ritiro spirituale per i sacristi. Giovedì 12 novembre alle 9 la giornata di ritiro per i ministri della comunione. Venerdì 13 novembre alle 19.30 l'incontro per rallievo esercizi nella vita ordinaria. Sabato 14 novembre alle 9 la giornata interreligiosa e alle 15 l'incontro del gruppo missionario per l'adorazione. Domenica 15 novembre alle 8.45 l'incontro di azione cattolica per sposi e coppie e alle 9 l'incontro della scuola della parola. Alle 15 l'incontro per sposi adulti. E con l'agenda è tutto. Appuntamento alla prossima settimana con altre notizie dalla chiesa vicentina. Arrivederci.